Per me il calcio è sempre stato un amore, una passione e quindi tutte le volte che potevo andare in campo per me il sorriso rappresentava la gioia che avevo io di essere lì. Avevo la voglia di giocare in una grande squadra europea, il Milan ha aperto la porta per questa opportunità e quindi quando sono arrivato lì c'erano grandissimi campioni che giocavano nel mismo ruolo che io. Finire la Champions come capocannoniere è stata una cosa unica perché non pensavo veramente, il mio ruolo non era quello di essere un capocannoniere. Quando prendi quelle due orecchie lì che alzi e dici bene sono arrivato, tutto quello che ho lottato, tutto quello che ho fatto quest'anno, i miei impegni, il mio lavoro, c'è qui il risultato. Quando ho firmato per i Galattici è veramente stata una conquista nella mia carriera. Il campionato spagnolo non è il più competitivo, però è il più difficile. Sono due squadre che lottano punto a punto e non puoi mai sbagliare.